ciao ragazzi bentornati nella lolocraft già la hotbar non va e ciao ragazzi allora cosa siamo tornati nella lolocraft io sono sempre endermight man 12 e iniziamo subito la puntata perché mettete like per dito in più alla mano destra e non dimenticate ma voi vi state chiedendo tu hai già un elmetto di ferro cos'è quell'altro elmetto ebbene nello scorso episodio vi avevo detto che avrei fatto un elmo un elmo leggendario ed eccolo qui divine helmet grazie al computer di notch oggi facciamo una costruzione epica scusate per andare da sopra casa un tunnel di vetro per andare fino al computer di notch divining helmet ci dà respirazione sott'acqua ma non che le bolle praticamente si faccio più si tolgono in pochi tanto tempo tra l'altro qui aste è molto utile perché è utile perché ci metti tantissimo a rompere le robe e quindi comunque non te le proprio toglie non ah ho rotto un po di argilla perché allora da qualche parte dovrei avere no non ce l'ho comunque partiamo immediatamente con la puntata perché ora devo fare un po di roba con perché devo chiamo immediatamente i pannelli di vetro ho usato uno per ah beh è bene aiuta anche nella costruzione questo giugadrillo grazie ci sta tornando molto utile però mi sembra che sia troppo più non credete io penso che sia così e sia troppo più non lo distruggo però mi sa che non lo userò scherzavo non mi interessa un cavolo non mi interessa un cavolo non mi interessa un cavolo non mi interessa un pannelli ecco qui ah ma quindi per ogni finestra ok dove ehi la hotbar è rotta comunque ricordate di mettere pollici in su per il prossimo video e quindi ragazzi a giusto non vi ho fatto vedere una cosa lavoro off camera qui ho fatto una cosa che ci aiuterà praticamente è il balcone diventerà more lungo more lungos e quindi andremo a fare più lungo in ok qui abbiamo tutte le nostre cose qui andremo a metterci l'elmo di ferro e andiamo a mettere qui in caso le due ampolle mi chiedo perché ah già vero mi serviva una per ok e andiamo a prendere la ok ragazzi ho fatto anche i pannelli che dovrò mettere qua sopra adesso li vado a mettere ma ragazzi ho tanta voglia di mangiare pizza non lo so perché perché ho la pizza quindi allora ecco qui quindi le finestre di casa sono finite anche se ci sono dei tagli ma che una spada lei abbia tagliati ma ditemi perché hanno deciso sta cavolata no vince sembra è peggio del ghiaccio guarda preferisco avere il muro che preferisco scovere il muro che avere questi cosetti stanno facendo perfetto ok taglio fino a quando non ho finito l'intero ok ragazzi guardate cosa ho fatto questo è il mio soffitto rompo un attimo questo per mettere poi la scala con questa tutta questa legna faccio gli sticks mi servono molti sticks veramente tante quindi ecco queste sono tutte le nostre più e 39 metti aspetta la mia giga drill la rimetto qua allora mettiamo la nostra piccola h per avere tre e quindi se le mettiamo dovremo avere esattamente una valanga di scale cioè una valanga lo mettiamo la giga drill sta facendo il suo lavoro esatto e comunque guardate che roba a me piace sì a voi scrivetelo nei commenti quella roba sì quella roba non saprei che cosa sia però mi so che è qualcosa che diventerà bene non so se fare un direttamente di vetro che arriva fino a ok ragazzi questo è il ponte questo è il ponte che parte di vetro si e bla 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 anche la mano quando il suo piccone è troppo no lo metterò nella lava guardate eh ci ho messo un bel po di tempo ed eccolo qui il nostro migazzo computer e se lo scordi che distraggo la machine distruggiamo tutto in tre secondi e faccio un taglio fino fino a quando non tolgo la ok ragazzi è tornata mattina e questo è con c'è mio fratello via eh scusate no scusate non mettete per il mio fratello perchè succede lui entra perchè lui fa violino però mi son fatto troppo ma per malare uzzio muori e dammi la tua bella giusto adesso che ci penso ma si dai si voglio farlo voglio farlo l'ho messa in facile perchè non ne posso più io di pacifica non ne posso più andiamo immediatamente in questa eh opzione ma mi sa che per oggi possiamo finire abbiamo fatto un sacco di progresso e ciao per il prossimo video sarà ancora più bello ciao ragazzi e dopo l'episodio ho deciso di fare un mondo con un'opzione e questo è quello che è successo ma la vera domanda è che se io prendo la canola pesca posso pescare? e e e e e Grazie a tutti.